Io ho iniziato a fare ceramica da quest'anno e ho scoperto appunto diciamo la ricchezza e la bellezza anche della ceramica quindi ho voluto continuare e ho avuto la fortuna di poi sapere di questo corso che è sicuramente un corso che mi ha dato tantissimo, ma posso dirlo anche al plurale perché anche i miei compagni, si è formato un bellissimo gruppo di lavoro anche un corso che già, come dire, sembrava interessante quando ho visto il programma 200 ore ben strutturato che addirittura ha superato anche le aspettative per il contributo dato dagli insegnanti e appunto per diciamo il gruppo che si è creato Queste sono delle lampade? Sì, io ho scelto questo di fare delle lampade e ho iniziato diciamo questo percorso progettuale dallo studio della tradizione e in particolare dello stile bianco-blu antico Savona e poi questo diciamo primo studio mi ha portato a questi pezzi che guardandoli con attenzione conoscendo la tradizione si possono trovare dei punti in comune ma l'idea era proprio quella di rinnovare lo stilema, di trovare diciamo un'estetica che fosse più vicino al gusto contemporaneo quindi questo è stato l'obiettivo che mi ero posta fin dall'inizio della progettazione quindi è rimasto il bianco e blu, chiaramente è la caratteristica più evidente nei miei pezzi dove il bianco è la terra e il blu del pigmento si è trasformato in luce